La scuola che manca, lunedì inizia, i bambini a scuola non devono andare. Voglio che le scuole stanno chiuse, tutte le scuole, le disinventazioni, le disinventazioni, non quello che hanno fatto loro, tutti gli istituti non hanno fatto una vera e propria disinventazione e questo vogliamo una disinventazione originale. Grazie per la visione!